Sarà il presidente emerito della Corte Costituzionale, Paolo Maddalena, a presiedere la consulta sull'audit del debito pubblico del Comune di Napoli. I 20 componenti, nominati dal Sindaco e selezionati con un bando pubblico e da titolo gratuito, sono esperti in campo giuridico, economico, sociale, ambientale, lavoristico e dell'attivismo sociale. L'audit è chiamato a studiare, analizzare e avanzare proposte sulle strategie e le politiche di bilancio, oltre che sull'andamento del debito pubblico locale, potendo anche esprimere valutazioni sulle proposte di delibere di giunta, ascoltando anche professionisti e comunità sull'utilizzo delle risorse economiche del patrimonio pubblico. Credo che sia il primo caso in Italia della consulta audit sul debito pubblico. Analizzare il debito, non perché ci sia la parola debito vuol dire che il debito è per forza giusto, corretto, da estinguere. Questi anni lo abbiamo visto, ci sono i debiti, legittimi, i debiti ingiusti, i debiti illegali, i debiti odiosi e questa città ne ha subiti tanti. Ancora paghiamo le conseguenze dei debiti del terremoto dell'80, di cui siamo vittime e invece continuiamo a essere perseguitati dallo Stato centrale, così come quelli dell'emergenza rifiuti di oltre dieci anni fa. Quindi è una consulta dove ci sono competenze e professionalità a espressione della città e non solo, in cui si discute con competenza, si discute di bilancio, di patrimonio immobiliare, di debito, di analisi e quindi di proposte, nell'ambito di quello che è la democrazia partecipativa e una prospettiva costituzionalmente orientata che ha fatto di questa amministrazione un caso unico in Italia, perché l'abbiamo anche detto oggi col professor Maddalena che presiderà questo audit e questa consulta. Siamo l'unica città d'Italia che non ha privatizzato un servizio di rilevanza costituzionale. Grazie. Grazie.